Ada Lovelace è stata la prima programmatrice, viveva a Londra e senza di lei non esisterebbero i computer e la modernità della tecnologia di oggi. Senza la tecnologia tutto questo non esisterebbe. Secondo me le ragazze possono lavorare in tecnologia perché sono pari. Possiamo fare cose insieme, maschi o femmine. Mi piacerebbe lavorare sulla tecnologia. Io ho scelto la tecnologia per cambiare il mondo senza inquinare.